sono inguardabile letteralmente inguardabile mi perdonerete e chi mi segue sui social sa perché sono inguardabile sono le ore 3 38 sono appena rientrato da parigi il mio volo parigi bologna non è atterrato a bologna bensì a roma fiumicino con un ritardo perché c'era maltempo a bologna abbiamo girato intorno a bologna per una ventina di minuti e poi si è optato per atterrare a roma e da roma a bologna ci hanno fatto risalire in taxi in taxi in taxi in oltre 5 ore di viaggio e con un tassimetro totale di 718 euro eccolo qua eccolo qua 718 euro che ovviamente ha pagato la compagnia e non abbiamo pagato noi però 718 euro con persone che avevo mai visto nella mia vita e nonostante questo dopo questo viaggio della speranza eccomi qui a preparare il video della mattina perché è tutt'oggi che penso ad alcune cose da dire per via di alcune cose che sono successe poi nella serata ne sono successe altre perché il napoli non è che ha vinto ha stravinto contro il Liverpool partita che mi sarebbe piaciuto vedere insieme a quella dell'inter perché io in teoria alle 20 stasera dovevo essere a casa e invece sono rientrato alle 3 e 40 praticamente e la prima cosa che ho fatto è stata mettermi qui a registrare non mi sono ancora lavato quindi registro e mentre carico il video vado a fare una doccia poi probabilmente domani mi risveglio a mezzanotte faccio una giornata completamente assente dalla vita per forza di cose ragazzi sono disintegrato non potete capire quanto sia stanco ad ogni modo questa è una breve premessa a cui voi non interesserà niente come al solito c'è numero 10 da scaricare qui sotto in descrizione app con la quale lavoro con la quale collaboro ci sono diversi articoli che sto scrivendo per numero 10 ci sono diversi video tra cui il post partita di Monza Juventus che uscirà in esclusiva su numero 10 e potrete anche vincere la maglia della vostra squadra al cuore quindi assolutamente scaricate gratuitamente l'applicazione qui sotto in descrizione allora cosa è successo ragazzi è successo che la Champions sia la Champions faccio un breve resoconto delle italiane due sconfitte UE Inter un pareggio quello del Milan una vittoria una gran vittoria quella del Napoli rotonda e ho letto che è stato anche un grande Napoli c'è chi parla sempre del Liverpool che non è più il Liverpool però a me la narrazione delle squadre italiane o comunque di una squadra in generale si tende sempre a dare poco merito alle squadre si tende sempre ad attribuire colpe agli altri e non riesco a capire perché ci sia questa convinzione in Italia di voler forse nel mondo io parlo dell'Italia perché conosco l'Italia ma penso che sia così anche all'estero di voler sminuire le altre piuttosto che chilo dare le squadre avversarie e quindi Napoli un risultato così rotondo penso proprio che possa essere soddisfatto ogni tifoso del Napoli faccio un passo indietro perché stamattina mentre ero a fare colazione a Parigi con Romeo Agresti lo guardo e dico Romeo ma hanno esonerato Tuchel clamoroso clamoroso che abbiano esonerato Tuchel perché perché ragazzi questo soltanto un anno fa ha vinto la Champions praticamente non questa stagione ma quella prima e Tuchel è un mister che comunque nelle ultime tre stagioni ha fatto due finali di Champions e una vinta insomma non stiamo parlando dell'ultimo arrivato c'è Klopp un altro che l'anno scorso la finale di Champions l'ha giocata un altro che la finale di Champions l'ha vinta ormai è passato qualche anno perché era l'anno del primo Ronaldo la Juventus però Klopp è uno che ha riportato il Liverpool ad alti livelli dopo anni bui e attenzione perché per quanto sia stato assurdo secondo me le zone di Klopp non tanto perché oddio che cosa fanno perché ho letto diversi che in realtà se l'aspettavano perché vedevano alcune cose nel Chelsea che non andavano io sinceramente ci sono rimasto male però a questo punto vi dico siamo davvero sicuri che la panchina di Jurgen Klopp sia così al sicuro perché comunque stiamo parlando di 7-8 anni 6-7-8 anni di Klopp al Liverpool e ad oggi Liverpool sicuramente non sta mantenendo le attese però una società che esonera Tuchel o eventualmente un'altra società che esonera Klopp lo fa perché ritengono Klopp e Tuchel due incompetenti? no lo fanno eventualmente sicuramente per Tuchel c'è un discorso anche di proprietà di cambio di proprietà se il Liverpool deciderà di cambiare Klopp cosa che non credo però a questo punto vi alzo le mani perché potrebbe davvero succedere di tutto sarà semplicemente perché in questa guida tecnica non avvertono più fiducia nel proseguire che è un po' il discorso chiave che facevano con Davo ma anche l'altro giorno quando si parla di criticare gli allenatori ma di farlo in maniera costruttiva non è mai come dicevo prima per condannare è semplicemente riconoscere alcune cose che non stanno funzionando ed è un po' la mia sensazione al momento su Massimiliano Allegri no? perché io continuo a leggere dei commenti che continuano a dirmi questa squadra non ha gioco ragazzi la vediamo tutti la partita se tante volte non si prende in prima considerazione questo discorso è per un motivo lo sappiamo tutti che la squadra, questa squadra, questa Juventus ha un grosso problema a livello di impianto di gioco è palese, basta vedere una partita i giocatori non sanno che cosa fare con il pallone quando recuperano il pallone però c'è un però ed è un però grande qual è questo però grande? che questa squadra in questo momento ha un problema più grande che è quello dell'atteggiamento perché come vi dicevo anche su Instagram, su TikTok questa è una squadra che non sai chi è visto anche il video di Davo mi andava a ricalcare esattamente gli stessi punti che vi sto citando io e l'altro giorno avete visto il video con me e Davo ma siamo completamente su linee differenti per quanto riguarda Allegri ma probabilmente sulla stessa linea per quanto riguarda la Juve e cioè una squadra che in questo momento ha delle grosse crisi d'identità qual è la vera Juve? perché io ho certo una cosa in comune in tutte le partite che ha offerto la Juventus quest'anno la partita che offre con la Sampdoria a Genova è la partita che offre con la Roma in casa che meno male sono i due alti e bassi o il secondo tempo di Firenze e il secondo tempo di Parigi che sono proprio due cose in contrasto è proprio l'atteggiamento che cambia però una cosa in comune c'è e cioè che quando poi si arriva su altre quarti si fa fatica a concretizzare essere efficaci allora qui sì che entra in gioco il gioco perdonatemi il gioco di parole il che cosa devono fare i giocatori col pallone poi io sono anche sempre dell'idea che la lettura più corretta ce l'ha Maurizio Sarri e cioè dare un impronta a un'organizzazione di gioco nei primi metri poi negli ultimi 20-30 eh ragazzi se ci sono gli attaccanti che fanno un po' quello che vogliono io sono ancora negli occhi i gesti tecnici di Messi Bappé Neymar negli ultimi metri il gol che fa Bappé certo c'è un'organizzazione di gioco in qualsiasi momento però poi gli ultimi metri te lo fa Bappé e il punto è questo che sia con l'atteggiamento giusto che con l'atteggiamento sbagliato poi quella cosa lì in comune rimane e quindi certo è un punto da prendere in considerazione il punto è che noi non affrontiamo le squadre con il dovuto fuoco che deve ardere dentro di noi adesso questa settimana che viene abbiamo una partita un po' tranquilla in campionato ma io voglio vedere una Juventus che la va a aggredire dicendo sì certo posso rispettarlo il mio avversario ma chi se ne frega devo portare a casa i tre punti devo chiudere la pratica e poi c'è il Benfica che attenzione è dentro fuori stagionale della Champions sai ragazzi dato che è la partita più importante dice a lei che quella che dobbiamo sottolineare il rosso si è vero assolutamente sì e allora andiamo a concentrarci su questa cosa partiamo dall'atteggiamento in seconda battuta poi deve venire anche il resto perché l'impressione che mi dava il Paris l'altra sera allo stadio che in un qualsiasi momento loro potessero farci male in un qualsiasi momento perché comunque avevano un'idea di che cosa doveva fare col pallone negli ultimi metri e delle giocate individuali di alto livello noi questa idea non l'abbiamo mai data anche negli ultimi minuti dove c'è stata questa reazione di orgoglio della Juventus che ha alzato il baricentro e inserito più pressione nella metà campo avversaria magari spinto anche dentro il Paris ha mollato il Paris l'ha fatto un po' mollare la Juve con questa pressione inaspettata non lo so secondo me tutte e due secondo me sono due chiavi di lettura entrambe giuste per non togliere i meriti della Juve e per non dare magari una giustificazione a Paris secondo me sono una conseguenza dell'altra però anche in quei minuti lì in cui noi andavamo a pressare mi veniva da pensare eh però ragazzi qual è il modus operandi che ci permette poi di andare a finalizzare perché possiamo avere l'atteggiamento che vogliamo possiamo avere il dominio territoriale che vogliamo possiamo avere il pressing alto che vogliamo l'atteggiamento tutto quello che però se poi la palla non la butti dentro perché non hai l'idea di come farla arrivare è un problema perché se prendi in considerazione la partita della Juventus questa è l'unica cosa in comune e quindi questo è un macro problema la seconda è non sai che cos'è questa Juve quindi io prima di arrivare al discorso del gioco andrei a modificare il discorso dell'atteggiamento che è una cosa che Massimiliano Allegri può e deve darti è che in questo momento mi sembra proprio che non stia dando perché poi si parla di fiducia cioè io vedo i giocatori che sono sfiduciati e mi viene a dire palesemente sono sfiduciati mi pare che l'allenatore stesso non abbia fiducia in loro e come fanno dei calciatori sfiduciati perché l'allenatore non sfida di loro a dare fiducia ai tifosi per forza di cose poi anche diventa un effetto domine i tifosi hanno meno fiducia nella squadra perché vede che l'allenatore non ha fiducia nella squadra e quindi i calciatori hanno meno fiducia loro stessi poi magari dentro dello spogliatoio c'è questo gran clima di fiducia che è una sensazione che però vedere giocare a Juve non mi dà è inutile l'output che ricevo io a livello emotivo non me lo dà questa cosa ma quando vi dico che la mia fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri è al minimo penso che sia stato esattamente il ragionamento che hanno fatto i dirigenti del Chelsea per Tuchel o che magari in questo momento si stanno facendo anche diversi tifosi del Liverpool voi ragazzi ve lo dico tranquillamente Tuchel e Klopp vengono a allenare in Serie A cosa che non credo dovessero mai venire a allenare in Serie A questi mettono le palle in testa tutti a livello tattico e a livello proprio di quello che possono esprimere le squadre poi è ovvio infatti magari dei mercati di un certo tipo perché adesso mettiamoci nell'ordine delle idee fermo restando vi dico sempre lo sapete io spero che Allegri finisca la stagione perché se Allegri arriva a non finire la stagione significa che le cose stanno andando male e attenzione alla partita col Benfica perché è già il primo crocevia attenzione alla partita col Benfica attenzione perché poi non vinci quella diventa difficile a livelli allucinanti difficili a livelli inverosimili quindi attenzione che secondo me rischio anche di non passare il turno di Champions giro di Champions quest'anno c'è però però se Salta Allegri mettiamo Salta Allegri allora le ipotesi che ha la Juventus sono vado su un profilo già pronto e quindi magari il Tuchel della situazione o il club della situazione o il Zidane della situazione che fermo però questi poi me l'accettano una Juventus in corso d'opera con delle grosse difficoltà con un mercato non fatto magari con le mie volontà con una squadra che non sento mia una preparazione atletica fatta in maniera diversa perché ho dei grandi dubbi di riuscire a prendere un top manager in corsa dovesse mai saltare Allegri e ribadisco spero di no perché significa veramente che sei uscito dalla Champions o ti sei allontanato dal campionato perché prendi in considerazione ragazzi vittoria con il Sassuolo pareggio con la Samp pareggio con la Roma vittoria con lo Spezia pareggio con la Fiorentina e sconfitta con il PSG cioè prendi in considerazione le prime sei partite dell'anno hai due vittorie tre pareggi una sconfitta non è una roba che dice no cioè è proprio tutto il contrario ci sarà un motivo se la fiducia sta calando poi possiamo metterci dentro il discorso infortuni possiamo metterci dentro il discorso della mentalità possiamo metterci dentro il discorso del gioco quello che volete però poi il campo sta parlando il campo sta dicendo che non si sta raccogliendo purtroppo ad ogni modo se non si prende un top manager da subito allora la strada è un'altra è prendere un allenatore o un traghettatore che arrivi a fine anno con un traghettatore ma a me fa sempre cagare come opzione se no l'altra alternativa ragazzi è prendere un allenatore magari giovane con della fame che ti possa far crescere la squadra il mio nome su tutti se devo prendere questa identichetta è Vincenzo Italiano che a me piace insomma questa è la Fiorentina e non è che puoi prenderne uno a caso allora prendi un traghettatore questa estate ci ragioni magari si libera anche che ne so Conte che era il mio il mio nome quando è stato esonerato Pirlo perché a un certo punto mi viene anche il dubbio questa non è più una squadra che può avere la pancia piena cioè poteva essere una squadra con la pancia piena quella di Pirlo c'era Chiellini c'era Bonucci c'era Ronaldo c'era Quadrado Alessandro Di Bala adesso Di Bala non c'è più Ronaldo non c'è più Chiellini non c'è più sono rimasti Bonucci Quadrado Alessandro di quelli che potrebbero avere la pancia piena tutti gli altri non ha mai vinto con la Juve sono un po' che per ora era andato via quindi deve dimostrare adesso è infortunato bla 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 però magari un altro che ha vinto tanto in carriera Di Maria sì Di Maria ha vinto tanto in carriera però che non abbia lo stimolo di vincere con la Juve mi sembra folle Emili che non ha mai vinto Blaovic non ha mai vinto Chiesa non ha mai vinto Locatelli non ha mai vinto Bremer non ha mai vinto questi non possono avere la pancia piena non è logico quindi magari la pancia piena c'è l'allenatore che si sente un po' più sicuro sfiduciando tra virgolette che è poi il messaggio che arriva a noi e forse arriva anche alla squadra non lo so non ne ho la più pallida idea cioè sono veramente combattuto sotto questo punto di vista quindi anche il fatto dell'allegre out perché poi dopo a me fa girare le palle io posso essere d'accordo sul criticare l'anatore non aver fiduciato l'anatore voler cambiare l'anatore però quando poi si dice non ne metti uno a caso lì è la stessa cosa no questo non è vero ragazzi questo è mancare di rispetto come dicevo prima cercare veramente di buttare della roba invece che riconoscere dei meriti perché però Allegri i meriti che aveva una volta era proprio l'atteggiamento le squadre che comunque non morivano mai rimanere dentro la partita la gestione dei cambi sono tutte cose che si stanno vedendo meno si è visto un po' Parigi perché rimanere dentro la partita questo si è visto perché dopo 20 minuti lì sotto i due io lì ho detto eh ciao sai qua finisce male malissimo invece poi esci è una sconfitta quindi soddisfatto non lo puoi essere però per i presupposti che c'erano per le premesse che c'erano per quello che stava succedendo dico ripartiamo da qui mettiamo sul tavolo i nostri difetti i nostri punti deboli e cerchiamo di camminare prima di correre perché poi l'espressione di un certo tipo di calcio arriverà magari però se non passiamo mai la nostra metà campo se siamo passivi ma non ripartiamo perché anche qua c'è da dirlo ricorderete che l'anno di Pirlo e l'anno scorso sono stati tante volte dirvi ragazzi queste sono squadre a contropiede perché lo facciamo male il contropiede quest'anno secondo me non siamo una squadra a contropiede perché a differenza degli altri anni non c'è più Morata non c'è più Di Bala che comunque la qualità te la dà non c'è Chiesa non c'è più Kuluseski nemmeno Ronaldo che è un altro che poteva giovare del gioco in ripartenza questa è una squadra adesso che c'è Vlaovic che è un giocatore a cui devi servire la palla sulla corsa ma comunque deve avere ci può stare che giochi contro piede Vlaovic ci mancherebbe altro però Quadrado non salta più l'uomo Kostic mi sembra un giocatore molto tecnico parede se uno che l'abbiamo visto è uno anche che ti dà palleggio la palla in verticale che dà Vlaovic è perfetta Vlaovic forse non se l'aspettava nemmeno perché non è più abituato a ricevere quei palloni nel nostro centrocampo quindi noi siamo una squadra che può anche costruire ci sta non voler ripartire però se vuoi costruire sei una squadra che deve andare avanti non sei una squadra che deve andare all'indietro perché se sei una squadra che vuole costruire e andare in avanti se poi tu vai all'indietro e copri palla inizi a giocartela gli altri si rimettono a posto tu non sai cosa fare negli ultimi metri questi si chiudono tu non sai scardinare le difese allora per logica mi viene a dire queste cose non possono funzionare perché costano le strategie che stiamo adottando costano tra di loro non sono queste le cose che mi sta facendo dire scusa ma ma lì queste cose non le vede? cioè il fatto che si voglia insistere con l'idea sì ma non sta funzionando ma non lo sta dicendo il campo due vittorie tre pareggi una sconfitta le vittorie sono state con Sassuolo Spezia pareggi con Fiorentina e Roma sì ma anche con Samp la sconfitta col PSG ci sta però punti lasciati indietro perché lasciati indietro difetti difetti errori ripetuti atteggiamento che non si vede poi sì mettiamoci alla mancanza del gioco possiamo metterci non è un problema ma secondo me in questo momento se prendi in esame tutta la situazione quella è l'ultima cosa che riesci a mettere a posto perché adesso dei problemi più grossi ci sono prima proprio perché secondo me ma guarda io non sono convinto che Allegri non si fidi della squadra ma lo dico da un anno però se dopo un anno ancora non ti fidi allora ci sono dei problemi non puoi continuare così anche perché non ti fidi uno non ti fidi due non ti fidi tre non ti fidi quattro i calciatori diranno ma scusami un attimo non è che siamo degli scappati di casa poi sì ci sono infortuni sì i Pogba e Di Maria non ci sono mai avuti eh ho capito e la gente mi dice sì gli infortuni ho capito va bene gli infortuni ci sono mi hanno già fatto un video a parte è anche un problema della Juventus allora cosa facciamo confermiamo Allegri tutti gli anni perché magari due o tre giocatori sono sempre fuori e poi i risultati non ci sono ma ribadisco ma il avere dei dubbi su Allegri oggi ma non è mettere in dubbio quello che ha fatto non è mettere in dubbio Massimiliano Allegri è semplicemente lo stesso ragionamento che stanno facendo anche altre dirigenze come l'ha fatto la dirigenza del Bologna con Mialovic anche lì ho degli amici tifosi del Bologna che sono impazziti mi hanno detto eh no che cosa bisogna fare ci sono degli altri tifosi del Bologna che dicono già anche l'anno scorso era desonerare quindi calcio c'ha le sue vedute è bello perché vario il tifoso c'ha un'infinità di pensieri di sfumature di filosofie di pensieri di visione del calcio ci sta l'importante è che se ne parli sempre con rispetto per quanto mi riguarda e quindi niente erano alcuni pensieri sparsi tra serate di Champions tra viaggi in taxi interminabili tra discussioni che abbiamo avuto anche comunque con Lello con Romeo abbiamo parlato l'altra sera anche mentre prendevano una birra e queste cose qua e fatemi sapere anche la vostra dopo 20 minuti di registrato sono le 4 di notte vi carico il video vado a fare la doccia e chi si è visto si è visto ragazzi un abbraccio grazie per essere rimasti qua ad ascoltare queste puttanate notturne fino alla fine